Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio fare un po' di trigger quindi produrre con voi alcuni suoni rilassanti toccando in particolare due oggetti che ho comprato da poco e che sono sicura facciano un suono bellissimo prima di presentarvi i due oggetti che ho scelto però devo ricordare che questo è il primo video del mese di novembre e quindi devo salutare e ringraziare tutti gli abbonati al canale le persone che quindi lo sostengono con un piccolo contributo mensile e così mi permettono di portare avanti questa passione e di produrre contenuti sempre nuovi adesso menzionerò tutti gli abbonati dal secondo livello in poi ma potete nell'info box trovare i nomi di tutti quindi grazie agli abbonati di novembre e un saluto in particolare a marco Tavarni grazie ancora ragazzi faccio anche un salutino a virus letale lui sa perché detto questo vi invito ad indossare le cuffie oppure gli auricolari a distendervi posto comodo a lasciare un mi piace a questo video e iscrivervi naturalmente al canale se non siete iscritti cliccando la campanellina per non perdere i prossimi video e basta andiamo subito a iniziare ok il primo oggetto che ho acquistato per voi è questa paligcia al di sopra c'è il disegno di un unicorno c'è scritto unicorns are real spero tra l'altro che vi piaccia che ti piaccia la manicure scelta per questo tapping questo scratching all'interno di questa valigia che è piena 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 di brillantini ho voluto riporre tutti gli accessori che ho utilizzato per le ucchie quindi ad esempio la limetta i patufoli di cotone il buffer il sordente oleoso l'acetone e quello per lo smolto semipermanente c'è anche una serie di tips mi stava leggendo anche stranamente un ottimo profumo di fragola non so perché che non so perché in questo caso il marito non so perché questa è la del piaccia il marito della è il marito che truffo è il marito è la il marito quando l'ho vista ho detto devo assolutamente mostrarlo alle mie fatine e ai miei elfetti sul mio canale fatoso a proposito di fatosità non dimenticate che su Amazon è tornata nuovamente disponibile l'agenda ASMR o meglio il diario Agenda ASMR e che dal primo di novembre si è sbloccato il contenuto interattivo di questo mese che potrete andare a scaricare inserendo la password che trovate proprio all'interno dell'agenda e tra poco ve la mostro nuovamente giusto perché magari qualcuno ancora non l'ha presa ci tacco veramente tanto 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 a questo diario Agenda perché l'ho creato interamente io insieme ovviamente alla casa editrice Polliniani che ringrazio e l'ho creato in un periodo della mia vita in cui sentivo fortemente la necessità di rigenerare e quindi ho cercato di creare dei contenuti che potessero aiutare anche le altre persone a ritrovare facilmente la strada nel caso l'avessero perduta per questo il diario Agenda contiene tanti spunti per migliorare la propria vita a novembre si parla di meditazione per migliorare la propria vita per migliorare la propria vita tutti i miei tesori per quanto riguarda la cura delle mani forse 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 vorrei ascoltare un po' di water sounds adesso vi mostro il secondo oggetto ma prima ritirò fuori per 15 secondi la mia agenda smr questa che potrete trovare su amazon mi raccomando vi lascio il link giù nell'info box per acquistarla e godere di tutti i contenuti interattivi una pagina personalizzata moltissima qui c'è una pagina che mi piace molto ve la lascio scoprire una volta presa bene il secondo oggetto è questo è una confezione igienizzante per le mani la particolarità è che ha il profumo di cioccolato ho pensato potesse essere pratico avere un altro po' di igienizzante ma nella borsa in questo periodo è un'altra cosa c'è scritto c'è detergente e c'è di tante mani formulato con ingredienti di origine naturale con estratti naturali di macostano alcol e freddo solo per usare il terreno e voglio provarlo insieme a voi così ah che buono ha un profumo molto molto buono ok sa proprio di cioccolato perfetti wow di torta al cioccolato in realtà non proprio di cioccolato mi piace molto bene ragazzi questo è tutto per oggi spero che questo video vi abbia rilassati fatemelo sapere lasciando un commentino vostro pensiero felice magari e fatemi sapere se vi piace o non vi piace il profumo del classico igienizzante per le mani sono anche molto curiosa di sapere se abitate in una delle regioni di mini lockdown o lockdown come state vivendo questo periodo non troppo semplice e basta spero di avervi fatto compagnia noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video baci di fatosi ciao 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 ciao